Buongiorno. Oh, buongiorno. Qua bello. Prego. Ci dovrebbero essere due prenotazioni, a nome di Pisicchio e Cacace. Pisicchio e Cacace. Ah, sì, ha chiamato il comando prima. Il maresciallo ci ha detto di venire. E siamo venuti. Lo vedo. Dunque, voi inizialmente avevate una prenotazione per due suite. Sì. Che sono le nostre camere chiaramente più belle, quelle con vista mare, giardino. È buono. Grazie, è buono. Però, no, però mi dispiace, non sono più disponibili. Oh, come sarebbe? No, no, state tranquilli, non vi preoccupate, ci sono altre due camere. Ah, figuriamoci. No, pensavamo che stassi... No, no, no. L'unico particolare è che avete il bagno in comune. Il bagno in comune? Sì, questo è l'unico piccolo dettaglio, insomma. Ci sono problemi? No, non è un discorso di problemi. L'unica cosa che davamo è che il comune è distante di qua. Scusa, metti il bagno in comune. Magli a metterlo in macchina per... Antipatico, questo qua, anche per voi. ... ... ... ...